E' da dicembre che è attivo presso il Comune di Napoli un servizio che consente di scaricare certificati di stato e anagrafici online senza doversi recare presso gli sportelli. Oggi con questo protocollo estendiamo questa funzionalità anche per gli avvocati. Con la firma di un protocollo siglato questo pomeriggio in sala giunta, il Comune di Napoli estende al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il servizio di rilascio online della certificazione anagrafica e di Stato civile. L'accordo in particolare prevede l'utilizzo del servizio anche da parte degli avvocati dotati di identità digitale che tramite accesso online registrandosi al portale internet del Comune potranno ottenere le certificazioni necessarie alla difesa in giudizio dei propri clienti come la residenza e la composizione del nucleo familiare. È gratuito ed è un tassello importante che si aggiunge al raggiungimento di una sempre maggiore efficienza dei nostri uffici perché possiamo immaginare quanto faciliterà l'attività di questa classe professionale che prima invece era costretta a recarsi presso gli sportelli e quindi ad andare personalmente. Questa è un'iniziativa che consegue allo sforzo sinergico dell'Ordine di Napoli e delle istituzioni per dare anche dignità lavorativa alla professione forense che non può ridursi alla richiesta dei certificati presso gli uffici ma deve dedicarsi agli ideali, alla difesa dei clienti, alla tutela della giurisdizione. Napoli all'avanguardia sulla digitalizzazione, sull'informatizzazione, efficienza, semplificazione, di trasparenza e credo che sia un servizio utilissimo agli avvocati dell'Ordine di Napoli e ai loro assistiti.